Un caro saluto a tutti quanti, ben ritrovati con i nostri video. Che cosa stiamo guardando in questo momento? Come dicevamo, il panorama delle CPU è estremamente sfaccettato, avremo delle grandi rivoluzioni, come vi ho sempre detto, probabilmente, e anche qua altra previsione che vi ho fatto, che al momento è lontanissima dall'essere realizzata, ma molto probabilmente, invece, andrà in quella direzione, un addio definitivo ai vetusti e assolutamente impraticabili chip CPU della generazione X86 che attualmente è in mano a NVIDIA e a Md. In questo momento specifico vanno super gonfie vele, ma che comunque è una tecnologia morta, stramorta, che richiede una quantità di energia elettrica sempre più elevata, perché stanno continuamente aggiungendo dimensioni ed energia elettrica per poter funzionare oltre certi parametri. In questo momento, come ripeto, vi ho già detto, credo, non so, in quanti video ho detto questa cosa, una quantità di volte impressionante. Ma dobbiamo anche dire che, perché stiamo guardando questo chip, perché Microsoft appunto ha presentato il MyA100, l'hanno chiamato anche Azure, Azure è un po' il nome di Microsoft, nome, mantra, simbolo, bandiera della software house americana, perché il MyA100 è il tipo di CPU pensata per lavorare su quella che viene chiamata Azure Cobalt, cioè tutta quell'infrastruttura che loro prevedono dovrà gestire al meglio l'intelligenza artificiale. Non è cosa banale, in quanto come già altri articoli vi ho fatto, pubblicato, informazioni, non sono finiti tra l'altro, in futuro quello che già uscirà quest'anno avremo dei processori dedicati espressamente all'intelligenza artificiale, perché comunque, per quanto uno dica, sì, ma lavora via internet, in realtà una parte del carico di lavoro viene fatta proprio sui PC in locale. Ed è curioso, proprio per il fatto che io che sto usando parecchio, lo sto usando veramente tanto, Copilot, per sperimentare, perché è un nuovo giochino, una volta ci giocava sul fronteardo, io negli anni 90 avevo sempre i PC di merda e dovevo fartegra fuori dal poco mille cose che non c'erano e quindi si andava a fare l'overclock, si andava a fare lo studio dei megahertz, se tocco questo, se tolgo quello, allora va un po' di più, un po' di meno, eccetera, eccetera. Oggi si gioca con l'intelligenza artificiale per capire un po' quello che si può fare, i limiti, le potenzialità e quello che in questo momento sia possibile studiare, eccetera, eccetera, nel bene o nel male, sempre con il solito ragionamento che ci diciamo e facciamo. Ma vi accorgete comunque che nel momento in cui comunque deve elaborare delle informazioni una parte del carico va in locale e anche su CPU, il mio PC fisso, che comunque è bello o tosto, rallenta, non i PC, ma comunque l'intelligenza artificiale, fa fatica a caricare certe volte delle informazioni, proprio perché quella parte di elaborazione, probabilmente, dico io, per i suoi rallentamenti sono dovuta al fatto che ha bisogno di un carico di lavoro che comunque proprio, attualmente proprio la generazione di questi computer non è in grado di dare, quindi vanno a sommarsi tutti i carichi di lavoro, ma cioè non sono adatti per elaborare queste informazioni. Ma soprattutto Microsoft, che qua è l'obiettivo loro, come tutte le aziende, devono tentare di risparmiare cercando di trovare soluzioni migliorative, attualmente sono praticamente in mano a NVIDIA, cioè tutti i loro data center hanno quasi tutti tutta una gestione in mano a NVIDIA. NVIDIA, per chi non lo sapesse, sono quelli che elaborano le schede grafiche, ma che sono state tra le prime ad utilizzare tutta una parte di processori dedicati al, diciamo non tanto all'intelligenza artificiale o meglio sì, ma sul fronte scheda grafica sono processori che già loro avevano valutato per la gestione dei loro DLSS eccetera eccetera. Cioè che cosa fanno nella pratica senza entrare nel tecnico veramente da fuori di testa. In pratica funziona così, ovviamente potete applicare questa cosa come ne avete voglia voi per N motivi. Ovviamente qua nel caso delle schede grafiche di NVIDIA parliamo delle GPU, quindi appunto l'elaborazione dei dati lato appunto scheda grafica. Attualmente NVIDIA che cosa fa? All'interno dei suoi driver, ok, che fanno girare i giochi a una certa velocità, a certe performance eccetera eccetera, loro inseriscono delle informazioni dei videogame che devono girare, ed è geniale comunque come questa cosa funzioni molto bene, dove praticamente fanno così. i loro datacenter elaborano come le performance di questi giochi devono girare, devono funzionare a certi fotogrammi a secondo, come possono funzionare in modo, adesso non so che termine usare per restare un po' sulla base, perché dopo si entra anche dal tecnico della parte proprio videoludica, che immagino ve ne sbatte il cazzo, però loro praticamente moltiplicano per farla veloce gli fps e le immagini che vengono inserite tra gli fps simulando questo comportamento nella parte software, ma realizzandola dal vivo nei loro datacenter, perché funzionano così, e in questo modo poi comprimono tutte queste informazioni, le inseriscono all'interno dei driver, e le schede grafiche che utilizzano DLSS o altri stratagemi di questo tipo, vanno a replicare questa cosa, e oltretutto fingono di essere ad una risoluzione che non è, perché naturalmente il DLSS finge di essere ad una risoluzione più ampia, che in realtà è più bassa, e crea tutta questa illusione che agli occhi della persona che sta guardando non se ne accorge, e semplicemente vede che il numero di fotogrammi al secondo è molto alto con una qualità ottima, nella realtà sta vedendo qualcosa di compresso, più piccolo, con dei fotogrammi aggiunti finti, eccetera eccetera, c'è tutto uno studio, un ragionamento e un comportamento che questi processori, queste logiche vengono attivate e funzionano, per questo che loro erano avanti molto di più rispetto alle informazioni delle GPU, delle, scusate, delle EA per come funzionano oggi sui PC, proprio perché loro erano abituati a far sfruttare il software dei loro driver con il software dei PC, collaborando in un modo estremamente stretto per portare questi benefici, che poi in realtà non erano neanche dei benefici pratici, erano proprio degli scamotage legati, comunque tutto offline, non è che si collegano poi fuori e fanno funzionare, no, è tutto estrettamente funzionale alla parte del PC stesso, ma questa comunicazione che avviene deve avvenire in tempo reale con tutta questa serie di magheggiamenti, magheggi vari, e questo discorso appunto Nvidia ha un know-how incredibile, perché quando si parla di hardware e si parla sempre di software, ovviamente, voi scrivete, lo dico ogni tanto, ogni spesso, l'hardware e i software devono ovviamente convivere, ma chi ha un certo know-how per far leggere certe informazioni all'hardware in un certo modo, ovviamente, ripeto, ha un know-how che si porta dietro per poi fare tutta una serie di cose. Nvidia, per esempio, voleva comprarsi ARM, perché, nonostante sia un'azienda che esista da tantissimi anni sul territorio, è praticamente leader di mercato delle GPU, ma non sa un cazzo di CPU, quindi di processori, cioè tutta la sua esperienza, tutto quello che può avere, che magari prende anche persone che lavoravano in tele, in medibola, ma non avere una struttura che abbia un effettivo know-how, che crea chip in un certo modo, che sfrutta, eccetera, ti impedisce di avere proprio un bagaglio all'interno della propria azienda che permette di fare anche un certo tipo di strategia. Ecco perché, ripeto, se Nvidia si fosse comprata ARM, avrebbe fatto il botto, perché creava direttamente tutta una serie di strutture, ma già così, fate conto che, ripeto, se vi dico Nvidia, voi mi dite, ah, sono quelli delle schede grafiche, e questo succedeva dai primi del 2000 fino ad oggi, nella realtà, oggi, negli ultimi anni, se dite a Nvidia siete quelli delle schede grafiche, loro dicono, sì, ma delle schede grafiche ce ne sbattiamo altamente, ce ne sciacquiamo le palle, potrebbero dirvi, perché non gliene frega più un cazzo delle GPU, che comunque, vabbè, riportano avanti leader di mercato, bla, 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 ma loro è tutto data center lato EA, perché stanno vendendo questi servizi, che ovviamente non hanno costi bassi, ma sono tutte aziende che naturalmente da queste cose ci riguadagno, insomma, c'è tutto un giro dietro, che è molto interessante, però il concetto è, il futuro comunque è, Nvidia e AMD devono comunque, comunque, se vogliono dare oggi performance ai PC, devono comunque allegare le GPU, cioè i processori alle intelligenze artificiali, proprio perché ad un certo punto, Microsoft con il prossimo Windows, probabilmente già dal 24H2, ma comunque Windows 12, vi dirà, no, no, ma i vostri requisiti di sistema sono gli stessi di sempre, non preoccuparti, va tutto bene, poi però quando tu accendi il PC, il tuo PC inizierà a macinare dati legati all'intelligenza artificiale, non perché sei tu che gli fai domande strane, ma semplicemente perché l'intelligenza artificiale diventa parte della logica, e vi ho detto tante volte, la battaglia dell'intelligenza artificiale la vincerà, chi andrà ad utilizzare la EA, al posto del motore di ricerca browser, e quindi tutta quella roba qua diventerà la nostra vita, tra virgolette, normale, nessuno di noi andrà più a digitare cose, lo si chiederà al PC, ma tutto questo carico di lavoro, questo dovrebbe essere un video da due minuti, in realtà per presentare soltanto Maya, tutto quel carico qui di lavoro, comunque qualcuno se lo deve prendere in carico, e i nostri vice attuali fanno una fatica boia a gestirla, senza perdere in prestazioni, e quindi devono andare a infilarsi questi processori, che devono andare a supporto del sistema, e quindi è molto importante che tutto questo venga fatto nel modo giusto e corretto, chiudo la parentesi per dirvi che comunque questa è Maya, e Microsoft inizierà a svilupparsi il proprio chip per questa cosa, poi che su larga scala, che su lato user, questa cosa potrebbe diventare un altro concorrente ai tanti altri, però vi ripeto, i soldi non si fanno su questo, cioè i soldi si fanno sui data center, i soldi si fanno su queste server farm infinite, in cui si elaborano questi dati, perché da qualche parte quando voi dite cloud, non è nell'aria, non è il mio pc più il pc del mio vicino, ma parliamo di sistemi che da qualche parte devono lavorare quantità di dati infinita, e quindi oggettivamente ci sono e ci devono lavorare, quindi il futuro è esattamente lì, per Microsoft, che comunque è il leader di mercato totale per quanto riguarda il cloud, se non dite Microsoft, dite AWS, quindi Amazon, o pochissimi altri concorrenti, ma molto probabilmente Microsoft cannibalizzerà quasi tutti, e diventerà lì l'effettiva leader nel momento in cui l'hardware nostro non servirà più a un cazzo, però direi basta, perché se no non ne finiamo più questo video, spero che questa cosa vi possa essere stata utile, questo è Microsoft Azure Maya 100, che è la nuova processore, potremmo vederlo anche lato consumer? chi lo sa, nel frattempo noi restiamo a guardare e attendiamo fiduciosi il futuro, come sempre, se no per forza di cose dovremmo morire prima. Grazie a tutti, al prossimo video, e ciao!